Bitcoin, la sua ultima possibilità di bull market è rappresentata da un'ultima speranza e stiamo parlando proprio di lui, Donald Trump. Non lo dico io, ma secondo alcuni analisti, che ora andremo a commentare, andremo a vedere alcune analisi, appunto, e previsioni che sono state fatte, tutto il futuro di Bitcoin e di questo ciclo e del bull market dipende dal nostro amico Donaldo. Quindi direi, ragazzi, io mi tolgo la felpa, guardiamo la sigla, iscrivetevi e tra 5 secondi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Bernstein prevede Bitcoin a 80.000 dollari o addirittura 90.000 dollari in meno di un mese, ma solo ad una condizione. Verso 90.000 dollari, dice Bernstein, tornano alcuni le analisi bullish secondo questo articolo di Cryptovaluta.it. Bernstein non è la prima volta, ragazzi, che fa previsioni assolutamente bullish nei confronti di Bitcoin. Il target indicato in questo caso è un aumento di circa il 30% rispetto al prezzo odierno che scambia intorno ai 62.000 dollari, anzi, in questo momento anche purtroppo qualcosina in meno, ora andiamo a vedere anche a livello grafico, ma solo ed esclusivamente se dovesse vincere Donald Trump. Quindi potrebbero esserci dei nuovi massimi per Bitcoin, a patto però che Donald esca vincitore dalle elezioni degli Stati Uniti d'America presidente come presidente appunto degli Stati Uniti. Abbiamo già visto non essere super mega favorevole per quanto riguarda tutta la politica statunitense e quant'altro, elezioni che saranno i primi giorni di novembre e questo potrebbe appunto portare come ultima narrativa, visto che praticamente tutte le altre ragazzi ce le siamo giocate, potrebbe portare quindi nuova linfa su Bitcoin. Ma com'è messo Donald Trump? Abbiamo, diciamo, tante possibilità che vinca oppure no? Adesso lo andiamo a vedere perché su Polimarket Donald Trump è stato premiato ultimamente a causa anche di alcune interviste piuttosto snaturate, così sono state commentate alcune volte della Harris, un'intervista in cui non ha fatto roba una bellissima figura. Polimarket è questa, diciamo, piattaforma decentralizzata dove gli investitori possono votare e possono appunto cercare di scommettere fondamentalmente su un esito piuttosto che su un altro e in questo momento Donald Trump ha recuperato parecchio. Di certo non è un campione di persone, diciamo, enorme da questo punto di vista, quindi non, ragazzi, per quanto cercheremo di indovinare chi vincerà le elezioni, secondo me lo scopriremo solamente a elezioni fatte, però ecco, visto che tanti sondaggi davano in vantaggio alla Harris, in realtà non è così scontato e Trump comunque se la sta giocando e anzi su Polimarket per il momento è in vantaggio. Chissà, ragazzi, se effettivamente la sua eventuale elezione potrebbe essere una narrativa che potrebbe spingere il prezzo di Bitcoin finalmente a fare nuovi massimi. Il prezzo di Bitcoin che al momento, ragazzi, rimane completamente stagnante e di una debolezza direi pazzesca, nel senso che ormai è tutto l'anno che stiamo vedendo questa debolezza. Mettiamolo sul mensile, ragazzi, per farci un'idea di quello che stiamo vedendo. Siamo arrivati all'ottavo mese in sofferenza, in lateralità. Sì, è vero, è una lateralità al top dopo questo impulso rialzista, quindi è una potenziale bull flag, ma è una bull flag, ragazzi, che ci stiamo portando dietro da veramente tanto, tanto tempo, troppo tempo. Abbiamo bisogno di un Bitcoin che vada a spingere. Ho visto però delle similitudini, se vogliamo continuare a cercare di vedere del positivo. Ho visto una più o meno similitudine con, no, scusate, non è qui, con il 2020, perché proprio nel 2020 abbiamo avuto più o meno una fase stagnante simile a quella che stiamo vedendo fino adesso, con parecchi mesi di lateralità, addirittura discendente o comunque di stabilità, con il prezzo che ha fatto range tra i 6 mila, escluso poi lo spike del covid e i 10 mila dollari per praticamente da maggio del 2019 fino praticamente all'estate poi del 2020. Ed è andato a rompere tutti gli effetti proprio nel mese di ottobre, che è appunto considerato come uptober, mese positivo per Bitcoin. E poi la bull run è effettivamente cominciata nei mesi successivi di fine anno e di inizio duemila e ventuno. Qui arriviamo da una situazione un po' diversa, perché abbiamo avuto un pump prima, però comunque una lateralità veramente estenuante, c'è da dire anche a livello psicologico, ragazzi, e ora vedremo se riusciremo a riprendere terreno. Al momento ottobre, ragazzi, è cominciato tutto, tranne che bene, soprattutto considerando il fatto che siamo ancora in questo range, e anzi, stiamo addirittura attaccando per l'ennesima volta quella fascia di liquidità che troviamo qua sotto, ok, in quest'area. Vediamo se farà l'ennesimo ritest qua sotto. Attenzione, ragazzi, perché un supporto più volte lo andiamo a testare e più tende ad indebolirsi. Interrompiamoci solo un secondo per dirvi che è ancora attiva la nostra newsletter, siete già in tantissima ad esservi iscritti, è completamente gratuita, dovete semplicemente iscrivervi cliccando con il link che vi lascio qua sotto in descrizione e settimanalmente avrete le nostre analisi e un primo accesso alla Deserve Academy. E il bonus di Bing Eats di questo mese è veramente interessante perché avete la possibilità di avere un airdrop gratuito di 13.600 hamster e 4.000 dollari di bonus. Se utilizzate il link che vi lascio sotto in descrizione, come sapete io utilizzo Bing Eats come exchange principale per fare tutti i miei trade. Mi trovo veramente molto bene e tra l'altro, ragazzi, vi spoilerò che se vi iscrivete con il mio referral, tra pochi giorni avrete una bella sorpresa. Ci sarà una cosa molto figa che sto organizzando con il team, quindi vi consiglio di iscrivervi e di iniziare a fare trading su Bing Eats. Spostatevi qua perché ci saranno numeri molto molto interessanti. Volevo farvi vedere anche quello che riguarda invece gli ETF perché anche qua vediamo pareri piuttosto discordanti. Da una parte un 7 ottobre molto positivo con 235 milioni che va a recuperare un po' quello che è stato un afflusso negativo della prima settimana di ottobre, ma poi ieri abbiamo ricominciato ad avere invece outflow superiore agli inflow per circa 18 milioni di dollari. In realtà gli outflow non arrivano quasi mai, come potete vedere questa è la colonna di BlackRock, non arriva quasi mai da BlackRock, ma arrivano più che altro da Fidelity o gli altri ETF. Ieri abbiamo visto più che altro Fidelity vendere 48 milioni di dollari, superiore ai 39 milioni invece che hanno acquistato quelli di BlackRock e poi abbiamo il solito Grayscale che fondamentalmente non si muove, quando si muove è solamente per vendere. Continua la debolezza su Ethereum che aveva dato qualche segnale di ripresa in queste giornate, tendenzialmente verso fine settembre sembrava dare segni di ripresa, ma poi ragazzi è tornato un po' a essere veramente piatto, a parte la giornata del 2 ottobre dove abbiamo visto circa 20 milioni, ma come vedete l'ETF di Ethereum continua a far abbastanza desiderare, mettiamola così, il 7 di ottobre addirittura tutto zero ragazzi, non ci sono stati né acquisti né vendite, credo sia la prima volta che sia mai successo una roba del genere fare addirittura zero, non ci sono stati acquisti né vendite sugli ETF, il 7 di ottobre, l'8 di ottobre quindi ieri invece abbiamo visto solamente delle vendite, tra l'altro neanche da Grayscale ma proprio da quelli che avevano acquistato prima, quindi Fidelity e quant'altro. Quindi ragazzi, l'ETF di Ethereum che continua a rimanere debole, rimane debole anche la stessa Ethereum, rimane debole Bitcoin, rimane debole tutto l'ecosistema, mentre i mercati ragazzi sono sempre lì, cioè questo è l'SP500 che come vedete sta di nuovo proprio in questo momento che sta registrando attaccando i massimi, quindi l'SP sta sui massimi, andiamo a prenderci il Nasdaq perché ha fatto un bel recupero anche il Nasdaq nelle giornate scorse, sta ancora sotto quelli che sono i sui massimi storici, ma come vedete è ancora comunque tutto sommato in una situazione di forza, di uptrend, è vero che questo potrebbe essere un massimo decrescente, quindi un primo segnale di debolezza per poi andare a scaricare, ma finché ragazzi avremo l'SP che pompa, secondo me ci siamo e avremo sempre la solita, il solito recupero insomma i mercati tendono a crescere, ok, nel tempo. Volevo sottolineare anche la performance veramente pazzesca ragazzi di RIF, guardate che cosa ha fatto RIF, è un altcoin che quasi nessuno si caga più e a un certo punto è esplosa ragazzi, ci ha fatto un 1300%, io direi in modo, adesso non ho news particolari, magari me lo dite voi nei commenti se sapete perché, ma ha fatto una performance veramente strabiliante ragazzi, un 1300%, incredibile, in pochissime settimane, se andiamo a metterlo sul mensile, lo ha fatto in un mese e mezzo, c'è ancora tantissima strada da fare perché guardate da dove arriviamo, ok, quindi siamo comunque ragazzi rispetto ai massimi ancora a un meno 88%, quindi era una coin praticamente morta, è come se fosse più o meno neanche risuscitata, ha tirato fuori la mano fuori dalla tomba, però è notevole sicuramente la performance che ha fatto considerando anche il mercato che in tutto sommato invece rimane esattamente dove era, cioè debole ragazzi. Volevo vedere con voi, vediamo se la trovo la Total 3 perché anche qui abbiamo ancora segnali di debolezza, andiamo a metterli sul settimanale, qui ragazzi speravo di vedere una reazione, per il momento invece anche la Total 3 sta ricominciando a dare segni di debolezza con una dominance ragazzi che come potete vedere è praticamente in salita infinita in un bull market che purtroppo non è lo stesso che vediamo su Bitcoin. Bitcoin, quindi ragazzi in linea generale continua la debolezza su Bitcoin, continua la debolezza un po' su tutto l'ecosistema delle cripto, il settore delle cripto che non ho paura a definire secondo me un po' in crisi ragazzi, perché comunque vedere tutti quanti gli assets che performano e le cripto che continuano ad arrancare sicuramente non ci fa ben sperare, ok, considerando che la maggior parte delle alcoin ragazzi sono mesi che stanno scambiando a un meno 80% dei massimi, quindi è un bagno di sangue su tutte le alcoin, tranne qualcuna che come vedete ogni tanto fa qualche spike ma non abbiamo segnali di forza e questo purtroppo è da tenere conto ragazzi, dobbiamo tenerlo conto, dobbiamo tenerne conto nelle nostre strategie, nelle nostre scelte di investimento e sapere che stiamo investendo su un mercato molto molto rischioso con però dei rendimenti che al momento non sono superiori a quelli tradizionali, purtroppo è così ragazzi, bitcoin al momento non ha di nuovo la forza, non ha ancora più che di nuovo, non ha ancora la forza per dimostrare qualcosa e appunto secondo le varie analisi che continuano a chiamare bull market ora tutto è rimasto, si va diciamo ad appoggiare sulle mani di quello che potrebbe essere Donald Trump e magari lui potrebbe dare l'ultima narrativa da giocarci per vedere eventualmente un bull market. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate come al solito qua sotto nei commenti ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito anche questa puntata, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!